Ciao, sono Annalisa e leggo Presdonna. Ci sono frasi, parole, atteggiamenti e comportamenti che noi donne, giovani o meno giovani, dovremmo iniziare a non accettare più. Sono le stesse cose che gli uomini, giovani o meno giovani, dovrebbero imparare a non dire e cancellare dal loro vocabolario e anche dalle loro mentalità. Questo è il tema di Stai Zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più di Michela Murgia. È un libro piccolo che si legge in fretta, ma che ci offre la possibilità di fare una riflessione profonda. Raccoglie infatti tutti gli stereotipi sulle donne e sul femminile che la società intorno a noi ancora accetta. Dal ritenere che alle donne si possa rivolgere un complimento anche pesante, perché in fondo è solo un complimento, al fatto che le donne abbiano bisogno sempre della condiscendenza degli uomini o ancora che debba accontentarsi delle cosiddette quote rose perché il suo ruolo nella società venga riconosciuto. Michela Murgia affronta questi temi con la grinta e la determinazione che le conosciamo e al termine dice che le piacerebbe che questo libro fra dieci anni non interessasse più a nessuno perché si tratta di cose che non esistono più. Piacerebbe anche a noi. Stai Zitta di Michela Murgia, edizioni Einaudi. Puoi chiederlo in prestito alla Biblioteca di Presenza Donna e trovi tutte le informazioni nel video. Leggi Presdonna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.